La più potente delle armi del nostro tempo non è il fucile, non è il carro armato, non è l'artiglieria, è la finanza. Ti posso parlare? Se si tratta della mia promozione? Sono praticamente certo che la avrai, ma c'è un problema. Se non ottieni quel posto lo avrà Ed Stewart, indebolisce lui, rafforzi te stesso. Questa guerra fra voi deve finire. Lo sai che cosa potrebbero farti? Promettimi che non farai niente di stupido. Voglio che tu faccia in modo che un'informazione diventi virale. Che genere di informazione? Se questi bilanci vengono alla luce, la banca, tutto, capisci che intendo? Non devi vergognarti della tua ambizione. Ti ho scelto per questo, ma il tradimento? No, quello non va bene. Lo accuseranno di omicidio. Massimo è fottuto. Starà accanto a lui con sta sacrifici? Dovresti saperlo meglio di chiunque. Sono sempre stata convinta che tu non fossi come loro, che tu fossi figlio. Non vai a caccia di un uomo come Dominic Morgan con un coltello o una pistola. Ci vai con un esercito oppure cazzo te ne rimani a casa. Massimo Ruggero. Massimo Ruggero. Massimo Ruggero. Questo la farà sbattere in galera. Ne sono certa. Il più grande inganno del diavolo non è farci credere che non esista, è lusingarci per non farci vedere che il diavolo siamo noi. Ho alcune serie tratte da libri da vedere nel 2020. Ispirata all'ultimo libro di Stephen King vi segnalo The Outsider per HBO, poi Il Mondo Nuovo, romanzo distopico e visionario per gli amanti della fantascienza d'autore e vi segnalo anche queste oscure materie. La serie tv tratta dalla trilogia fantasy di Philip Polman. È tutto. Se siete ingordi di serie come me questa maglia fa per voi. In infobox il link è per averla. Ciao!